Bentornati sul nostro canale YouTube. Continuiamo a parlare di indicatori e oggi presentiamo il Parabolic SAR. Andiamo subito sul grafico per vedere di cosa stiamo parlando. È un indicatore che trovate di default sulla maggior parte delle piattaforme di trading, come ad esempio la MetaTrader. Qui lo troviamo già impostato nella sua forma tradizionale che prevede il passo 002 con un massimo di 0,2. Ma che cos'è il Parabolic SAR? Quindi torniamo un attimo sul nostro slide per vedere intanto la formula. Sembra complicato, ma non è così. Il SAR è un elemento di controllo del trend, infatti viene utilizzato per seguire il trend, ma anche per avere un'ipotesi di dove il trend potrebbe invertire. Il Parabolic SAR è calcolato in base all'ultimo valore disponibile, quindi SAR n più 1 sarà uguale a SAR n, quindi l'ultimo disponibile, più un'alfa, che adesso vedremo che cos'è, nella differenza tra il massimo ottenuto dal prezzo rispetto al Parabolic o il minimo ottenuto dal prezzo rispetto al Parabolic. Questo se appunto siamo in un uptrend o in un downtrend, quindi trend rialzista o ribassista. L'alfa è invece una variabile importantissima che rende il Parabolic più reattivo o meno reattivo. Andiamo di nuovo sul grafico. Notiamo che l'impostazione classica è abbastanza importante. Questo è un grafico daily. È un grafico che ci permette di vedere come, ad esempio, un indicatore di questo tipo, una volta che spunte il pallino sotto il prezzo, ci indica che il mercato è in fase di rialzo. Quando il pallino va sopra, vuol dire che il prezzo è sceso sotto l'ultimo SAR disponibile, inizia la fase di ribasso. Di nuovo rimbalzo, rimbalzo e rialzo in corso. Ribasso, rialzo, di nuovo, 2-3 candele di ribasso, anche se queste appunto sono nei falsi segnali, e poi di nuovo fase di rialzo. E così via. Se c'è un bel trend, abbastanza lungo, importante, anche su time frame più piccoli, tipo un M1, un H1, come questo ribasso, ecco, si riescono a cogliere dei movimenti molto molto interessanti. Come tutti gli indicatori, non mancano dei difetti. Ad esempio, nella fase laterale, come potrebbe essere queste piccole fasi qui, abbiamo sì una fase di ribasso, ben presa dall'indicatore, ma probabilmente un buy precedente, come appunto queste ipotesi di rialzo, che invece non è così. Ciò significa che il mercato è probabilmente esposto in una zona laterale, che rende difficile il calcolo del trend in questa sezione. Quando invece, come qui, c'è un trend molto forte, al rialzo, ecco, l'indicatore è sicuramente molto molto utile. Come fare ad avviare questo problema? È una delle domande che spesso ci arrivano per ai nostri utenti, per poter capire meglio l'impostazione. Allora, magari è consigliato riprendere un attimo l'impostazione del multispread, del parabolic, e andiamo ad aggiungere una seconda parabolic con impostazione differente. 0.01 e un massimo di 0.02. Guardate cosa è accaduto. Abbiamo una seconda conferma del parabolic SAR sul trend da percorrere. Questo secondo in rosso è molto meno reattivo nel mercato perché abbiamo diminuito l'alfa. E questo ci permette di muoverci con un po' più di cautela e di poter, appunto, magari evitare qualche falso segnale e tradare solo le zone che hanno il doppio movimento conforme. Guardiamo ad esempio un H4 che avrebbe evitato sicuramente dei trend ribassisti assolutamente errati o rialzisti nella fase di ribasso. Guardiamo ancora il daily come prima che in fase di rialzo riesce a muoversi solo nella sezione rialzista, correttamente nella sezione ribassista e poi tutta la fase ancora rialzista. Questa impostazione è assolutamente interessante perché ci aiuta in modo notevole a mantenere una logica di trend ben più pulita del normale. Anche su Forex, anche sugli indici, anche su situazioni come il Gold sono strumenti che riescono a determinare molto meglio l'andamento del prezzo. Guardate il Gold che ha un grafico molto difficile ultimamente, quindi perché ha delle pratiche molto laterali. L'impostazione in blu avrebbe avuto molte difficoltà, l'impostazione in rosso invece è molto ben precisa. Ribasso lungo, rialzo abbastanza interessante, 2-3 candele di ribasso ma subito candela rialzista, candele ribassiste, trend rialzista, trend rialzista e adesso trend rialzista. Quindi ci stiamo muovendo in una direzione molto più pulita. Questo, assieme agli altri indicatori che abbiamo studiato e presentato, assieme a voi, quali ad esempio lo stocastico e l'RSI, cercatevi gli altri video perché appunto sono tutti qui nel nostro canale, vi permettono dunque di migliorare notevolmente la lettura dei grafici. Andiamo a vedere ancora un altro esempio. Prendiamo in considerazione New Zealand Yen e notiamo una logica, anche qui abbastanza pulita, con la doppia impostazione Parabolic SAR, ma cerchiamo di capire bene dove entrare, dove mettere lo stop e il take profit. Allora, guardiamo un attimo il grafico. Questo è un H1, quindi un grafico molto veloce e immaginiamo di essere stati qui pronti a seguire il trend ribassista e quindi aver aperto il sell nel momento in cui avevamo due pallini sopra il prezzo, quindi blu più il rosso, e iniziavamo quindi la nostra fase di ribasso. In questo caso abbiamo avuto un movimento che si è trattenuto a ribasso per 37 pip e con un rischio di, guarda caso, circa 37 pip, 40 pip. Dunque il trader avrebbe potuto iniziare a vendere con uno stop quando il prezzo doveva appunto modificarsi sopra il Parabolic e a questo punto avrebbe avuto anche un set di rischi di rendimento 1 a 1. Nel momento in cui il blu tende ad andare sul, a spingere a rialzo il prezzo, ecco si poteva strategicamente uscire dal mercato, prendere un piccolo profitto e evitare di perdere il ben fatto e il trader avrebbe di nuovo poi evitato naturalmente di fare il buy perché lo usiamo solo come stop nel sell ma riallinearsi qui ai successivi pallini ribassisti, come notate, con di nuovo un rischio di circa 32, un potenziale di 12 ma anche qui nel momento in cui il prezzo tende a modificarsi ci permette di uscire con un minimo di perdita. Guardate che questa era una zona difficile perché il mercato l'abbiamo preso proprio in una fase di discesa. Successivamente però vi faccio notare una cosa, qui i mercati si girano al rialzo nella stessa candela il mercato non va mai sotto la rossa o se dovesse avere diciamo appunto qui l'occasione chiudiamo un po' in perdita, si riallineano di nuovo in quest'ultima fase e qui avviene il trend che ancora non è terminato, non c'è nessun'altro fase finale. Dunque, chi fa trading on parabolic tende a seguire il mercato e a far correre le posizioni che vanno bene e a chiudere in modo abbastanza veloce le posizioni che vanno male. Questo ci permette di mettere in campo delle logiche veramente interessanti perché abbiamo un controllo, un pieno controllo del rischio, abbiamo una possibilità di guadagno quando i mercati sono ben in tendenza e quindi facciamo correre al meglio le nostre posizioni che poi è il principio di base del training online. Taglia le perdite e fai correre i guadagni. Queste e tante altre lezioni naturalmente saranno sempre a vostra disposizione. Vi ricordo di poterci contattare in ogni vostra esigenza. Lasciateci un commento, indicateci cos'altro vorreste essere spiegati, analizzati perché appunto siamo qui per apprendere anche delle vostre necessità e avere le idee su come meglio programmare i prossimi video. Grazie e buon trading a tutti!